il giorno di lunedì giorno di festa presi la vanga e andai a zappare mi messi all'ombra d'una cuarce secca dalle siliegie ne veni a crepare mi trovo al padrone di quelle purnelle mi disse cosa mangi le mie fave mi dette una sassata ad un orecchio e mi sortiva il sangue per il ginocchio andare al paese per comprare una pezzola c'era il mio padre che nasceva allora come ti chiami mireno e poi cognome fabrizio dove sei nato san cacciano de bagno quando 12 del 3 del 43 e qual è il posto che ti piace di più di san cacciano de bagno ma tutto cos'è che non ti piace di san cacciano de bagno insomma qualche strada senti ma se io ti dico bagno grande perché mi rispondi bello che facevi al bagno grande ma il bagno facevo il bagno dalle volte sovra lavorato che lavoro ha fatto io l'operaio cosa ti ti sarebbe piaciuto che non hai fatto un discorso è difficile ogni tanto che cosa è difficile che cosa avresti fatto nella tua vita e lo so il signore il signore non saresti stato meglio saresti stato meglio a fare il signore sicuro sicurissimo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti